Il primo gennaio, ormai da 1946, a Roma c'è una tradizione fantastica che è il tuffo nel Tevere da Ponte Cavour. Diciamo che il protagonista è Mr. Ok. Noi abbiamo deciso di sfruttare, per rendere pubblico a tutto il mondo, perché ci saranno televisioni di tutto il mondo, la questione stamina. Quindi io mi scriverò dietro la schiena, sia la vita sia stamina, e mi tufferò da Ponte Cavour nel Tevere. I ragazzi qui da Montecitorio faranno un corteo e verranno fino a Ponte Cavour per sostenermi, ma sarò io, a sostenere loro.